Si comincia a vedere qualcosa del nuovo Perugia che Fabio Caserta aveva in mente per la stagione della ricostruzione. Si comincia a vedere una squadra che in campo gioca bene solo a tratti, ma che in quanta d'atteggiamento sembra aver intrapreso la strada giusta nella difficile giungla, che è la Serie C. Una squadra che ha trovato l'abito giusto, il 3-5-2, modulo che si addice meglio alle qualità di Federico Melchiorri, che dell'undici bianco-rosso è una delle punte di diamante. Al resto ci ha pensato una difesa 3 che, aiutata appunto da tutta la squadra, ha concesso solo un'occasione agli avversari in apertura di match, quando il destro di Giacobbe ha sfiorato il palo di Fulignati. La partita l'aveva però iniziata meglio il Perugia, sceso in campo più aggressivo e più determinato dell'avversario a trovare il gol. Arrivato all'undicesimo per merito di Melchiorri, brava ad avventarsi sul lancio di Crialesi a trafiggere il portiere del Legnago, con un destro insidioso ma non irresistibile. Vantaggio che è stato meritato, che il Perugia ha gestito con molta attenzione abbassandosi troppo talvolta, ma con una compostezza di squadra che piano piano ha finito per ammosciare la reazione dei padroni di casa, che per 20 minuti, almeno sul piano del ritmo, è stata significativa. Di occasioni però poche e tutte dalla lunga distanza. Nella ripresa le cose sono andate ancora meglio. La partita è calata d'intensità e il Perugia l'ha controllato con maggior facilità. Caserta ha avuto ragione anche dopo il balzer dei cambi, sul gol del raddoppio, che ha deciso definitivamente il match, ci hanno messo lo zampino tutti i nuovi entrati. Rosi con il cross, Falzerano con il primo tiro respinto, Bianchimano con il tapin vincente e il solito Melchiorri, la cui presenza in aria è stato uno spauracchio per i difensori del Legnago. Il Perugia porta a casa così la sua seconda vittoria consecutiva, non subisce reti e si insedia nelle zone alte della classifica. La strada sembra quella giusta, ma... Ma adesso non bisogna neanche saltarsi dopo i due vittorie, bisogna capire che ancora la strada è molto lunga. Io ho questo che chiedo sempre, al di là del risultato, bisogna stare sempre concentrato e lavorare. Grazie a tutti.